Proseguono con ritardo i lavori per il bosco inclusivo a Vigevano. L'area si trova tra via Valletta Fogliano, via Indro Montanelli e Corso Torino. Entro la metà di dicembre dovevano essere piantate oltre 4.000 piante, così i primi risultati sarebbero stati visibili in primavera. Per il momento però si sta procedendo con lo smantellamento dell'area per togliere i vecchi alberi che la abitavano. Quando la zona sarà totalmente ripulita si procederà con la nuova piantumazione, un'iniziativa studiata con Regione Lombardia per non lasciare in disuso un terreno ampio più di 3 ettari. Inoltre la zona è densamente abitata, la realizzazione del bosco darà quindi una nuova connotazione all'area che diventerà un polmone di verde. Viene usata la parola inclusivo perché grazie ad apposite panchine e passerelle anche le persone con disabilità potranno visitare il bosco. Regione Lombardia ha finanziato poco meno di 200.000 euro per il progetto. Anche l'associazione Forza Vigevano aveva raccolto diversi fondi poi donati al comune per la realizzazione dell'iniziativa. Il bosco, una volta terminati i lavori, sarà aperto a tutti e a qualunque ora del giorno. Verranno quindi posizionate delle luci sul camminamento per permettere di compiere il percorso in sicurezza durante le ore notturne.